Siamo qua, una staffetta tutta al femminile per sensibilizzare su temi importanti, chiediamo un parere ad una partecipante. Sì, io sono qua perché mi sembrava troppo importante questa occasione per testimoniare quello che è la volontà delle donne di uscire da questa condizione dove comunque c'è questo femminicidio, c'è una violenza. Quindi il fatto di poter partecipare qui, insomma comunque anche una cosa di questo genere, quindi anche con atto di presenza, senza dover fare chissà quale cosa, è sicuramente un modo per testimoniare questo. Quindi è molto importante. Io penso che al giorno d'oggi non sia più possibile esimersi, tagliarsi fuori quando le cose succedono agli altri, perché poi succedono sempre agli altri e pensiamo che non succedano mai a noi. In realtà è un problema di tutti, deve essere un problema di tutti condiviso. Poi anche la ricerca, la ricerca è importantissima, bisogna dare più fondi alla ricerca perché è attraverso la prevenzione e la ricerca che ovviamente possiamo guarire malattie importanti, una volta incurabili, che invece adesso sono assolutamente curabili. Per cui io credo che sia importante proprio partecipare, partecipare ed essere in tanti, in tante, perché così si fa sentire la voce che parte proprio dalla base. Le cose non cambiano, secondo me, decisa una persona sola, ma cambiano quando tante persone unite cambiano atteggiamento e cambiano i loro comportamenti, decidono di unirsi per una causa. Quindi sono molto felice di essere qua e al di là della corsa, della camminata, è importante testimoniare e esserci. Grazie mille. Prego. Grazie mille.